se c'è una cosa per cui valga la pena morire è l'amore io non ci ho mai creduto tranne che in quel momento un nuovo imperdibile appuntamento per gli appassionati di suo popolo ieri ti ho visto con un'altra donna ho assunto Lena e sono davvero entusiasta di averlo fatto dobbiamo pensare a una soluzione è mio figlio io ho bisogno di te, sei tutto per noi io sono dalla sua parte Lena, amore della mia vita prossimamente su Rai 3 iscriviti al canale